È morta a 28 anni dopo un giorno e mezzo di agonia in ospedale. A chiedere giustizia adesso è la mamma di Lenia Cavallini in un lungo post su Facebook. La madre, Cristina Fioretti, dopo la denuncia ai carabinieri, ha infatti deciso di fare un appello pubblico sui social per far piena luce sulla vicenda. Era il giorno di Santo Stefano del 2021, racconta la donna. Alle 6 di mattina, Lenia si sente male, inizia a vomitare e le fa male la pancia. Alle 12 la donna chiama l'ambulanza dove la figlia entra con le sue gambe. Al pronto soccorso del San Donato la situazione viene classificata come un codice verde. A Lenia fanno le analisi del sangue. Alle 17, racconta la donna, mi hanno detto che avevano trovato un'infezione nel sangue e quindi le avrebbero fatto un'attacca addominale. Alle 19 mi dicono che risulta un colon ingrossato, pensano che siano feci e che debba andare d'intestino. Chiamo Lenia, prosegue la signora Fioretti. Alle 21 e 20 stava ancora malissima, ma è la pena riusciva a parlare. Alle 22 dall'ospedale mi parlano ancora di un colon molto grosso. Mi dicono che la mattina successiva mi avrebbero chiamato per dirmi in che reperto si trovava. In piena notte, a lune 45 però, squilla di nuovo il telefono. Mi chiama un altro chirurgo dicendomi che quando ha visitato mia figlia era già in acidosi metabolica, aveva un megacolon tossico che gli hanno dovuto asportare perché era in necrosi. Era a rianimazione, intubata e gravissima perché insetticemia. Alle 13 e 30 infine mi dicono che devo andare di corsa perché, testuali parole, questa ragazza non reagisce a niente. Quando sono arrivata, l'infermiera mi dice, sua figlia sta morendo. Il 27 dicembre 2021 il cuore di Lenia smette di battere. Mama Cristina, assieme al suo medico, decide di controllare la cartella clinica. Alle 21 e 45 già risultava che erano stati chiamati tre rianimatori. Lei era già grave alle 22. Mi hanno negato di vedere cosciente per l'ultima volta mia figlia. Così la signora Fioretti nel maggio 2022 assistita dall'avvocato Luca Bufalini sporge denuncia per responsabilità colposa per morte in ambito sanitario e abbandono di persone incapaci. In procura si apre un fascicolo con la PM Francesca Eva. Ma dopo un anno e mezzo ancora nessun esito. Non c'è infatti né una richiesta di archiviazione né di rinvio a giudizio.